Con questa canzone facciamo qualcosa che non è anche parecchio, ma non è qualcosa che fare con il Cleo. Perché il brano del libro che noi abbiamo ancora è stato raccolto e documentato nel 1600 da Attanasus Kircher. Attanasus Kircher era un monaco, un gesuita tedesco, un attuale Papa per voi. E a metà 620 venne in Italia, siccome tra le altre cose era un grande intellettuale, era anche un maestro di cappella, si interessa nella musica etica, la musica popolare italiana, raccorse dei brani tra la Puglia e la Campania. Proponiamo così questi brani, che è il titolo di un tarantolo e raccolto da Kircher. La mia parte è molto regola, tipicamente religiosa come andante. Poi invece cambia.